Buonasera, salve, ciao cameraman, siamo in quartetto incerto Grazie, grazie Dico che potrebbe passare No, sicuramente urrano il bis Guarda il bis Guarda, boom boom il bis Sicuramente urrano il bis e noi glielo facciamo Il bis Il bis? Tutto, tutto il bis Il bis si chiama un articolato e quindi E' una traspostazione Vinali, si chiama Rocker of the Clock E noi l'abbiamo tradotta Rocco attorno al cloppo E' la storia di uno che c'ha il corso Del biologio che gira A stare distante E' la storia di uno che c'e chiama Uniii 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 Grazie a tutti.